È possibile calcolare i normal litri di aria da immettere nel pallone, moltiplicando i litri di aria per la pressione assoluta alla quale si immette aria, ovvero normal litri uguale a volume di aria da immettere moltiplicato per la pressione atmosferica, che è 1 più la profondità diviso 10. Per conoscere il calo di pressione nella bombola invece, basta dividere i normal litri per la sua capacità.